Ah, cosa? Penny! Non ho capito! Ciao! Oddio! Quanto tempo è passato? Su Instagram mi scrivete tantissimo dicendomi che cercate sesso il canale e di intrattenervi anche con i cazzi anche perché come gentilmente mi ricordano da Twitter è passato del tempo. Io vorrei riuscire a intrappolare Amanda Knox Io vorrei riuscire a fare la cacca La stitichezza è un problema di molti Gotalax ha la dose giusta per ognuno La gente ha comprato talmente tante mascherine che anche quella di Mischeta esaurita Vediamo ancora un tra, Mauro fratello quando è che ci vediamo? Mischeta, 2,99 euro Vabbò, ciao, va? Ho iniziato a fare una cosa che non ho mai fatto in tutta la mia vita Passo tutto il giorno col cellulare in mano a scrollare Pornab E quindi capisce, signore Ezio, che sto cercando veramente in tutti i modi di creare un contenuto completamente inutile Grazie a tutti i modi Grazie a tutti i modi